Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2 Prima di cominciare vi invito a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre vi invito se non siete ancora iscritti a discrivervi ad attivare la campana delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi Allora, come avrete ben capito la mod di oggi riguarda il nuovo Broly, direttamente dal nuovo film di Dragon Ball Super Ovviamente questa trasformazione non ci sarà nel nuovo film, però devo ammettere che è una trasformazione molto figa Guardatelo, è bellissimo a mio parere Mamma mia, che personaggio figo Ok, gli attacchi sono i medesimi della versione normale Ora andremo a provarlo in allenamento e poi faremo qualche battaglia con lui Allora ragazzi Esteticamente Non c'è proprio nulla da dire Mamma mia, è fighissimo Allora Gli attacchi Combo con quadrato La combo con triangolo La presa Ora Gli attacchi ovviamente Questa era la carica gigante Il guscio potenziato Ok La furia gigante Carica massima ovviamente Poi abbiamo il meteorite gigante Poi abbiamo il meteorite gigante Grazie Possiamo passare ai veri e propri combattimenti Comunque la moda è fighissima Allora ragazzi eccoci qua Vediamo di selezionare ovviamente il nostro Brawly Super Saiyan 4 E con lui Potremmo combattere contro Gojeta Sto proseguendo il quarto livello Dove però Questo è un altro discorso Allora Allora eccoci qua Il primo colpo va a Gojeta Ma gli altri tutti a noi Mi prende anche in giro Perchè non l'ha preso? Ok Ce l'abbiamo fatta Con furia gigante Ok No Bella 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 Beh dai Lo scontro Potremmo definirlo alla pari Per il momento Wow Questa è una delle mie mosse preferite Lo ammetto Bello Prendi questo E ovviamente non ho aura da lanciarli Per lanciargli un attacco potente Ma va bene Sparisci Gojeta Non lo ne ha incolpito A parte questo Ah Ci ha colpito lo stesso Come ha fatto Colpito E affondato ragazzi Beh siamo comunque riusciti ad avere la meglio su Gojeta Super Saiyan 4 Adesso vediamo se riusciamo ad avere la meglio su Gojeta Super Saiyan Blue Comunque ragazzi scrivetemi nei commenti se vi piace la mod A me è sinceramente un casino Però ovviamente ognuno ha i suoi gusti Wow ci meno di più il Gojeta normale Che quello Veramente Ma porca Ma porca Uh siamo riusciti a colpirlo Beccato Non l'ho colpito Ok Non c'è Uh si è trasformato in Super Saiyan Blue Cioè se prima le prendevamo adesso è ancora peggio Oh su fondo del mare Mamma mia Proviamo il ghiaccio Vediamo se riusciamo a farlo sparire insieme a questo pianeta Sembra che non ci faccia sparire prima lui Ma porca miseria Ma no Ok Bisogna prendere un provvedimento drastico E risparire Gojeta Ce l'abbiamo fatta per un soffio ragazzi Perché se lui Ci avesse colpiti per primo Ci avrebbe rotto la difesa E quindi dopo eravamo in sua balia Quindi si ci faceva Il sedere a strisce Ok ragazzi Io ovviamente spero Che la mod vi sia piaciuta Ovviamente Commentate sotto al video Per farmi sapere cosa ne pensate della mod Ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio Per continuare a sostenere la serie Ed inoltre vi invito ad iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti E ad attivare scusate La campagna delle notifiche Per non perdere nessuno dei prossimi episodi Grazie ancora Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao e grazie